Per tre quarti di gara si è vista in campo una sola squadra, il Catania, eppure è evidente che c'è una certa difficoltà a concretizzare poi quelle che sono le occasioni sottoporta. Sì, sicuramente. Oggi abbiamo creato tanto, siamo stati poco cinici, a volte anche poco fortunati perché il portiere ha fatto due buone parate. Una volta potevo fare sicuramente meglio anche io, però ragazzi si sbaglia, l'importante è non fossilizzarsi sull'errore ma ripartire e cercare di far si trovare pronto nell'eventuale occasione successiva. Dobbiamo sicuramente migliorare su questo, cercare di chiudere le tante occasioni che creiamo. Però sono contento perché stasera credo che abbiamo fatto un grande primo tempo, era da un po' che non si vedeva un bel gioco del genere. Secondo me il primo tempo se vincevamo 2-3-0 non avevamo rubato niente e poi dopo la partita si è fatta difficile perché quando non la sblocchi poi si fa dura, queste squadre si chiudono dietro e devi trovare comunque il colpo di fortuna. Questa sera c'è stata, però non è sempre così, dobbiamo migliorare e lavoreremo giorno per giorno per questo. Io ho segnato sicuro, ma è vero ragazzi, quando ha battuto il calcio d'angolo andava verso il portiere quindi non si poteva prendere, ho sperato, speriamo che la blocca male, che i segno, l'ha bloccata male, l'ho presa con la gamba ed è entrata. Non ha stato le proteste comunque del portiere? Ma io non l'ho toccato proprio il portiere, è stato un errore evidente, le sue proteste sicuramente erano anche per la frustrazione, per l'errore fatto, però meno male, abbiamo vinto una partita importante che ci dà grande morale, grande fiducia e ci permette di affrontare la partita di martedì con un piglio diverso. Vittoria doveva essere, vittoria è stata, però è stata una vittoria sofferta, una vittoria all'ultimo respiro, probabilmente questo Catania, ma anche la gente, il pubblico, ha bisogno di vedere probabilmente anche una squadra un po' più convinta di quelli che sono i suoi mezzi. Sì, ma oggi, sicuramente hai ragione, però oggi abbiamo fatto credo una partita, non alla grande, ma abbiamo fatto una partita accettabile, dove abbiamo avuto delle equazioni, dove abbiamo sbagliato anche delle equazioni, ma per 90 minuti nel campo c'è stata una squadra, siamo stati noi, quindi questo vuol dire che noi siamo preparati, siamo consapevoli dei nostri mezzi e sicuramente anche di questo campionato che è difficilissimo, quindi contentissimo per il triunfo, per i tre punti e niente, adesso pensare a martedì che dobbiamo fare anche lì dei punti importanti. Manca però ancora un po' di concretezza sotto porta. Sì, ovvio, te l'ho detto prima, abbiamo sbagliato delle equazioni chiare, dove non ci possiamo permettere, però mica uno vuole sbagliare a posto, per questo ci sono allenamenti, sicuramente c'è da migliorare, ma oggi credo che c'è stata una prestazione a grande altezza. Sì, no, io sono andato a parlare con il Guadalini perché ho visto all'arbitro che ha fiscato falo e quindi io l'ho detto all'arbitro, all'inia, l'aveva detto che se l'aveva rispinto la palla lui, quindi non l'aveva presa con le mani. Dopo lui mi ha detto no, è gol, è gol, quindi sono andato in corsa ad abbracciare i miei compagni. Allora, fisico bene, solo bisogna prendere il ritmo di partita. Sì, al momento difficile che mi ha chiamato per entrare in campo, io sono e lui lo sa anche che sono sempre disponibile, vada come vada la partita, io sempre cercherò di dare il mio contributo, di dare una mano grande ai miei compagni e per questo credo che oggi ce l'ho fatta. Quindi aspettiamo adesso martedì per, come ho detto prima, cercare di fare altri tre punti.